24 anni, i Natali vicino al Lago di Costanza, una carriera tutta in Germania e il sogno di diventare come Yenia Grebenikov. Il nuovo libero della Trentino Volley, Julian Zenger, è consapevole della delicatezza del suo ruolo e di ciò che lo attende in Italia. Quello italiano è il campionato più difficile in Europa. Ogni squadra qui gioca un'ottima palla a volo. Per questa stagione i top club hanno preso ottimi giocatori e quindi è un campionato molto molto duro, tutt'altro livello rispetto alla Germania. Nessun timore reverenziale però, anche perché lo staff tecnico trentino lo ha voluto fortemente dopo averlo notato nei quarti di finale di Cev, quando ancora indossava la maglia del Berlino. E a proposito di maglie, la numero 16 di Zenger sarà griffata dal gruppo Poli, che per la settima stagione consecutiva metterà il suo marchio sulle divise dei liberi. L'azienda della grande distribuzione conferma così l'impegno nella società giallo-blu, in un momento di riassestamento. Nelle prossime settimane i soci dovranno infatti eleggere il nuovo presidente, al posto di Diego Musna.